amici di twitch buonasera a tutti andrea tanto ormai questa cosa non mi tange più so che mi rovinerà l'intro e quindi no ma in realtà ti tocca dentro capito e ti colpisce dritto al cuore mi vendicherò mi vendicherò nel resto della diretta come faccio sempre amici di twitch come state come state tutto bene fatemi vedere quanta bella gente cioè allora fatemi salutare i moderatori jacky dopt fanpage che rendono la chat un posto vivibile e sicuro e soprattutto educato vedo anche i vip che hanno il saluto personalizzato ovviamente c'è il nostro montino ciao monti mirce spy di tommy sempre sul pezzo anche un saluto a tutti gli altri che sono qui questa sera a farci compagnia allora prima di andare subito e passare al nostro super ospite di stasera e siamo veramente molto felice onorati di averlo con noi quindi luca biagini grazie mille di essere qui e della tua disponibilità io ringrazio voi tantissimo perché siete giovani mi fa piacerissimo avere un confronto e una chiacchierata con voi insomma perché un mondo interessantissimo io sono grandicello e quindi ho piacere sempre di avere un confronto con le persone giovani e carine intelligenti in gamba come voi che bello grazie mille grazie davvero però prima di passare subito a luca noi vi ricordiamo le cose che ormai dovreste sapere tutti a memoria ma è sempre bene ribadire l'inizio live così non ci torniamo più allora i comandi ragazzi punto esclamativo telegram che vi rimanda al nostro canale ufficiale telegram dove in anteprima voi sarete informati su tutto ciò che riguarda la nostra attività a 360 gradi quindi avrete in anteprima programmazione locandine momenti clip momenti meme ad esempio per prepararvi a luca oggi abbiamo postato una bellissima clip del batman di michael keaton ma ce ne sarebbero talmente tante di harry art insomma però vi abbiamo selezionato quella per voi poi abbiamo il punto esclamativo sub andrea cosa fa questo punto esclamativo sub aspettato proprio lo stacchetto allora il punto esclamativo sub vi manda link per sottoscrivere un abbonamento a questo canale l'abbonamento è gratuito per tutti coloro che hanno amazon prime mentre il costo crescente da 3 ore e 99 7 ore e 99 fino a 21 e 99 mi sembra cosa del genere no 19 99 vi dà la possibilità di accedere ovviamente a diversi sconti sul nostro merchandising non vedrete mai la pubblicità in tutte le nostre dirette quindi non vi perderete neanche un secondo potrete utilizzare tutte le emoticon personalizzate del canale recuperare le dirette che abbiamo fatto da qui a due mesi e soprattutto entrare nel nostro esclusivissimo gruppo telegram dove ad attendervi oltre ovviamente a noi che siamo un po dei giuggerelloni ci sono anche degli ospiti che abbiamo avuto nei talks come per esempio lorenzo crisci come massimo triggiani e tantissimi altri bene bene punto esclamativo ospite con comando importantissimo e vi invito di andare tutti a seguire i social di luca vi rimanda ai social del nostro ospite quindi ci saranno tre bei social che vi consiglio di andare a vedere inerenti il suo profilo instagram lo spettacolo teatrale quindi insomma andate tutti a vederli poi c'è il punto esclamativo quote luciano che fa veloce certo ormai siamo così allora è una esclusiva del nostro canale dove praticamente comparirà sulla chat una frase storica detta dai nostri ospiti o detta da noi dove appunto abbiamo detto di tutto devo dire qualcosa velocissimo va bene va bene così va bene velocissimo te lo dico ma so mi hai sorpreso di solito c'è stato quattro minuti e mezzo oggi si è stato veloce e allora poi c'è punto esclamativo vive che vi rimanda tutti i link di una realtà bellissima con la quale collaboriamo che la vive production che fa da ponte diciamo tra le giovani promesse e il mondo del lavoro all'interno del mondo del doppiaggio e offre tanti workshop seminari insomma abbiamo fatto una live lunedì con loro ed è stata molto bella sito web merchandising e amazon influencer program ce l'abbiamo fatta luca eccoci a noi ok allora luca senti noi iniziamo tutte le nostre live con una domanda specifica poi non sappiamo dove andremo a parare però questa domanda una costante io ti andrei a chiedere chi è luca non tanto dal punto di vista professionale che oltre che essere sotto gli occhi di tutti poi ne andremo a parlare successivamente quanto dal punto di vista di luca stesso quindi tuoi passioni tuoi hobby gli aspetti caratteriali come ti vedi dal tuo punto di vista ma allora intanto sono una persona credo per lo meno poco riconoscibile nella immagine così un po mitizzata dell'attore del doppiatore insomma sono molto poco nella vita sono poco attore sono mi piace veramente essere me stesso senza nessuna maschera particolare se non quella che ognuno poi della vita adottano in qualche maniera tutti abbiamo qualche mascheretta però insomma non mi in genere non non faccio l'attore e non mi piace chi si compiace o fa troppo questo questa sottolinea troppo questa professione che è bellissima ma è già talmente bella talmente rara e preziosa per sé che non c'è bisogno di essere sottolineata da atteggiamenti particolari quindi io sono da questo punto di vista una persona veramente qualunque diciamo così e questo per quanto mi riguarda il rapporto con il lavoro che amo tantissimo mi piace moltissimo lo faccio da tanti anni in tutti i settori dal doppiaggio al teatro al cinema alla televisione ho fatto tante cose naturalmente mi ritengo molto fortunato perché ho avuto una storia da questo punto di vista che mi appaga completamente non ho non ho rimpianti non ho cose di cui debba né pentirmi oppure dire ma magari per peccato non ho fatto quella cosa no io sono enormemente grato e soddisfatto di quello che sono riuscito a fare questi anni sempre da solo da nel senso che non ho mai avuto supporti di nessun genere quindi tutto quello che ho fatto l'ho fatto così perché le persone mi hanno voluto bene credo abbiano stimato la mia professionalità il mio lavoro sono una persona in generalmente molto collaborativa sul lavoro mai concorrenziale mai intollerante mai egocentrica se non quello che giusto che sia per quanto riguarda questo mestiere dove naturalmente un po di egocentrismo devo dire che è indispensabile però sempre nei limiti della accettabilità della tollerabilità ecco questo caratterialmente sono così in genere sono amico di tutti i miei colleghi li voglio bene naturalmente non con tutti ho un grandissimo rapporto però con la maggioranza sì sicuramente e credo di avere anche da questo mondo di avere una corrispondenza di affetti insomma quindi in genere in genere mi 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 trattano bene ecco perché io tratto bene gli altri e di di conseguenza quando succede questo è più facile no avere dei buoni feedback dal mondo che ti circonda adesso io devo mettere un attimo anche in carica questo telefonino perché altrimenti ci accanna come si dice ci abbandona ci abbandona scusate nessun problema luca figurati cavoletto va eccolo là ecco questo per quanto riguarda il mio mondo professionale rapporto con la professione poi ho una grande passione che è quella della moto chi mi conosce lo sa e sono un motociclista direi abbastanza spinto perché ho fatto agonismo per da grande e poi tutto sommato neanche troppo da giovane per ma per vent'anni ho fatto agonismo sportivo quindi ho fatto gare in pista di velocità insomma è una passione molto molto forte che mi ha regalato anche tante soddisfazioni e anche tante conoscenze interessanti curiosi al di fuori completamente dal mondo dell'attoriale o dei doppiatori quindi questo mi ha arricchito moltissimo conoscendo persone di un'altra di altre generazioni ma anche di altre estrazioni sociali insomma ho avuto a che fare con con un mondo molto lontano e però dal quale ho tratto enormi soddisfazioni e anche conoscenze di persone con delle anime bellissime e una sensibilità anche imprevedibile quindi sono grato anche a questa mia passione perché mi ha messo in contatto con delle persone veramente belle e naturalmente continuo a un'età molto avanzata continuo a fare questa attività andando sempre in moto vado al lavoro a roma mi sposto solo con la moto che piova che grandini freddo non importa niente sono attrezzato e vado così e poi ho una moto super 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 sportiva con cui mi rivelo e vado in pista allora in realtà ne ho in questo momento due importanti una con quella con cui ho sempre fatto le gare ed è una ducati 1100 due valvole è un prototipo con cui ho fatto il campionato super twins si chiama cioè tutti e tutti le moto i motori bicilindrici e poi adesso mi sono comprato una moto pazzesca che è di ultimissima generazione una ducati panigale v4 un mostro assolutamente un mostro è una moto gp di qualche anno fa praticamente mamma mia che forza e organizzato un road trip non so se voi se alcuni siete appassionati di moto qualcuno di voi io 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 non sono tanto appassionato ma una moto nel senso quando ero p cioè a 18 anni ho preso il patentino per guidare la moto quindi mi ero fatto una ducati no una ducati una onda hornet 600 depotenziata depotenziata per imparare a guidare e poi l'ho guidata per cinque sei anni ma non no io tendenzialmente sono un fifone luca quindi ho paura a quando sono in viaggio magari non ho mai fatto un viaggio in moto perché ho pensato dio già c'ho paura quando vado in macchina che piove grandina mi devo fermare perché c'ho paura di sbandare in moto avrei il terrore che però mi è lo stile di guida c'è il fatto di di come si guida la moto e della libertà che provi nel guidarla mi è sempre piaciuta però poi il lato fifone che c'è in me però sai quello voglio dire la moto non la vive in tante maniere diverse io a me piace la moto sportiva io sempre da quando ero ragazzo ho sempre avuto moto sportive mi piace guidarla in moto sportivo quindi mi piace ma più che altro mi piace il piacere di avere la traiettoria giusta nella della più performante mi sembra che torno un po bambino è torno un po sciogliano stupidino perché mi sembra di essere quando sono sulla moto una bella strada con un bel asfalto con belle curve e penso di essere un grande pilota non lo sono ma comunque piace mi piace pensarlo e mi diverte e diverte questa cosa poi in pista naturalmente sono sono abbastanza insomma un agonismo spinto insomma mi diverte cercare di sorpassare una persona di starli davanti di combattere quindi questo sicuramente molto competitivo è il lato competitivo si diciamo del lato competitivo viene fuori poi magari siccome mi combatto sempre con persone che hanno vent'anni meno di me e quindi mi danno delle batoste incredibili ma non importa però quando trovo la persona giovane o magari coetaneo con cui me la batto mi difendo mi difendo con onore diciamo tra l'altro mauro dimmi luciano io non sono un pilota però diciamo sono figlio d'arte perché praticamente mio mio padre e mio zio hanno partecipato anche come wildcard al qualche 15 20 anni fa al mondiale endurance a vallelunga in coppia hai detto niente è una roba importante hanno fatto anche la 24 ore a bernò a rieca ragazzo ma allora sei figlio d'arte due guarda lo scopriamo per la prima volta abbiamo luciano da un anno lo scopriamo oggi hai capito luciano quindi hanno fatto il professionismo in qualche maniera sì 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 tra mirofante 2000 correvano accidenti accidenti e magari l'avrò anche conosciuto chissà ci saremmo incontrati come ti senti ad aver deluso terribilmente tu hai una famiglia di corrido di rider diciamo di di centavoli non è un'illusione cioè alla fine ci sono altre passioni in comune sto scherzando luciano una battuta comunque luca questa abbiamo anche sentito diciamo alcuni tuoi colleghi anche hanno la passione della moto ad esempio mi viene in mente gianfranco miranda che ci ha raccontato anche che ha fatto dei viaggi in moto con davide perino che sono successe cose enorme c'è anche lorenzo de angelis che ogni tanto lui va in pista non ha mai fatto gare non è non si è mai esposto nell'agonismo vero e proprio però va in pista molto spesso e credo anche vada abbastanza forte e davide l'ho portato io in pista divertentissima perché l'ho fatto correre nel fatto gli ho fatto guidare la mia moto da corsa sì a balle lunga e era emozionatissimo era una roba veramente non stava nella pelle erai super eccitato a un certo punto ci siamo fermati dopo un po di giri gli ho detto e lui gli diceva stavo andando fortissimo stavo andando a gas spesso non dai gas dal redilineo come cacchio a sì davvero ma a me mi sembra andare fortissimo andavo fortissimo poi però quando ero in curva ero in curva c'erano dei piloti boom mi passavano a destra a sinistra e non capivo più niente però nel frattempo si era molto divertito e si era molto emozionato e quindi sono stato sono un padre spirituale dal punto di vista motociclistico di davide perino che però poi non ha più avuto esperienze successive in pista ah ok quindi avete proprio un bel gruppo col quale magari vi incontrate e andate ogni tanto facciamo delle uscite sì domenicali o sabato andiamo fuori andiamo in abruzzo nelle zone dove ci sono belle strade poi andiamo a mangiare naturalmente di campagna sì sì per quanto io poi dopo in realtà non sono un viaggiatore mentre davide è un viaggiatore vero e anche mi stavi dicendo miranda no è un vero viaggio è un vero motociclista turista sportivo cioè sportivo ma turista che fa i viaggi lunghi io invece dopo un po mi rompo un po le scatole a fare viaggi lunghi quindi io devo avere il privito della velocità eh sì veloce faccio una tirata magari di un'ora un'ora e mezza e poi dopo sono stracotto tra fatto sudatissimo e torno a casa perché no divento pericoloso per me per gli altri quindi ti posso fare una domanda una mia curiosità ecco magari tu sei un diciamo la tua carriera nell'ambito della recitazione del doppiaggio sotto gli occhi di tutti no e per fare questo lavoro oltre essere molto molto bravi devi essere anche devi avere anche una grande passione potessi scegliere avessi potuto scegliere se diventare se avere la carriera che ha avuto oppure diventare un grandissimo pilota magari il Valentino Rossi cosa cosa diventare Valentino Rossi non ci sarei mai arrivato sicuramente a fare una buona carriera forse professionale l'avrei potuto fare se avessi cominciato però a 16 anni 18 anni ma allora non c'avevo una lira e per fare questo sport purtroppo si vogliono i soldi anche i grandi campioni da adesso sono partiti con come dire con dei bei sostegni economici o dalla famiglia o da altre persone che insomma è difficile cominciare questo sport se non hai soldi o se non sei dentro l'ambiente Valentino Rossi era dentro l'ambiente perché era figlio di Graziano Rossi che è stato un pilota professionale professionista nella 500 di allora quindi era anche un ottimo pilota ha vinto molte gare e quant'altro quindi lui già è cresciuto in un ambiente adatto a farlo diventare quello che è poi lui ci ha messo del suo ed è il talento che è quindi nessuno li può togliere nulla ma altrimenti è difficile quindi poi alla fine io comunque mi combatto sempre con me stesso da parte questo mondo diciamo dell'agonismo della moto dell'avventura del pilota e quant'altro poi sono anche una versione intellettuale io mi sono mi sono fatto il liceo classico mi sono scritto a lettere moderne a Firenze contemporaneamente cominciato a fare teatro e mi stavo per laureare in letteratura contemporanea quindi in realtà diciamo avevo questa possibilità pilota mi sarebbe piaciuto tantissimo ma non c'erano i mezzi diventare un accademico potevo diventarlo perché avevo una strada abbastanza aperta salvo che poi dopo quando mi dovevo laureare mi sono fermato e il mio professore con cui dovevo fare la tesi mi ha detto ma Biagini ma lei cosa vuol fare e dico guardi non lo so io sto facendo teatro mi piace anche il lavoro che sto facendo con lei allora lui mi scrisse una frase in un libro che mi regalò e mi disse per tutto quello che ti sta a cuore a quel punto lì mi senti libero di dire vabbè signor professore la saluto la ringrazio e continuo a fare teatro e quindi così è andata insomma quindi c'ho insomma dentro di me ci sono varie nature ecco e meno male che ci siano insomma molto molto anche distanti l'uno dall'altra ah ok no molto molto bello molto bello quindi diciamo sono tutti aspetti complementari che stanno dentro 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 luca ecco sì sì perché poi sono comunque sono rimasto un grandissimo lettore mi piace tantissimo la letteratura la poesia quindi sono un lettore abbastanza a volte un po' meno ma certi periodi leggo tantissimo e quindi sì mi piace molto la scrittura ecco un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto soprattutto sopra ogni cosa poter essere un ottimo scrittore ecco cosa che invece non lo sono e non sono non mi sarebbe piaciuto come perché mi piace tantissimo i grandi scrittori li amo li amo li amo e però già l'idea di confrontarmi con dei dei geni mi scoraggia immediatamente quindi sapendo che non sono non ho talento per quel per scrivere ma neanche per scrivere cose mediocri quindi a quel punto insomma per carità insomma ne faccio a meno volentieri leggo e mi soddisfa questo ok ok e io faccio l'ultima domanda poi lascio ad andrea e lucio la loro domanda e passiamo un po' la chat e vedo che ci sono veramente tantissime domande la mia la mia domanda invece è quando è nata la tua passione luca per la recitazione e se c'è un momento specifico nella tua vita magari che tu associ a alla svolta della tua carriera nel senso quel momento in cui hai pensato ok di questa passione posso farne effettivamente un lavoro sì è bellissima domanda questa va beh allora devo dire che per me è stato ho cominciato al liceo forse a coltivare quest'idea di poter fare questo mestiere ma pensavo anche di non essere molto portato ti dico la verità perché comunque nascono soprattutto nella fase adolescenziale come come una persona molto timida e introversa quindi era una sfida con me stesso perché per me salire palcoscenico era così a freddo pensandoci lo ritenevo quasi impossibile però era una sfida io ho sempre come dire amato molto le sfide soprattutto con me stesso quindi per me è stata una sfida quella di iniziare ad avvicinarmi al teatro e non ho fatto nessuna scuola quindi a maggior ragione io ho pagato sulla mia pelle con il mio sangue tutto quello che ho imparato e l'ho imparato anche soffrendo molto nei primi anni nel senso che dovevo imparare tutto e dovevo guardare ascoltare gli altri che lavoravano con me per fortuna erano tutti i miei poetani all'inizio quindi io ero alla pari con loro insomma comunque sia quelli quelli più bravi li seguivo cercavo di capire però insomma ho dovuto molto combattere con la mia caratterialità che tendenzialmente era invece molto molto più chiusa di quello e il teatro mi è servito anche a questo ad aprirmi molto a conoscere le persone bellissime e che mi hanno mi hanno fatto diventare piano piano quello che sono quando sono diventato ho pensato di poter essere non lo so arrivati è una parola strana e non non si non si arriva mai si è sempre si è sempre in ogni volta che fai una nuova una nuova esperienza una nuova avventura o teatrale o cinematografica o televisiva anche un film importante raddoppiare per me se c'è una sorta di come dire se ho un qualche timore nel senso che ce la potrò fare riuscirò a farla io tuttora me lo ponco questa domanda e quindi in realtà non ho mai quella sicurezza totale di dire poi alla fine porto le porto a compimento le sfide per fortuna e anche bene insomma sono contento di questo ma la paura di non farcela c'è sempre e io questo la benedico come una una fortuna e non una non un handicap perché ogni volta che ho pensato di essere molto sicuro di me ho toppato da lì ho imparato che la questa sicurezza fasulla non serve a niente e non ti porta da nessuna parte sì c'è stato ci sono state due o tre tappe importanti nel nella mia storia uno quando mi sono trasferito a roma tantissimi anni fa e mi è capitato subito di fare un uno spettacolo che è poi diventato uno spettacolo che è entrato nella storia del teatro italiano e che era accademia a kerman con la resia di giaccarlo seppro storico che l'abbiamo fatto per praticamente ogni dieci anni lo riprendevamo fino all'ultima volta il 93 94 e quello è stato uno spettacolo che per me mi ha proprio mi ha dato il segno il senso di una sfida vinta eh con una partenza invece difficilissima ma poi con grandi soddisfazioni finali quindi io dopo la prima a roma di questo spettacolo lo raccontavo pochi giorni fa non mi ricordo a chi però io mi ricordo che dopo il terrore di fare questa perché avevo dieci cinque una settimana di tempo per fare questo spettacolo difficilissimo complicatissimo quindi alla prima sono arrivato terrorizzato e alla fine non sapevo cosa avevo fatto se bene se male non so però alla fine dello spettacolo ho avuto talmente tanti complimenti da dal pubblico talmente tante gratificazioni che mi ricordo poi sono uscito dal teatro era tra stevere era zona di tra stevere era già notte ero da solo ed ero così felice così contento che mi sembrava di volare volavo camminavo a mezzo metro da terra e per me quello è stato un passaggio importantissimo poi ho cominciato con il doppiaggio nell'ottanta pochi anni dopo con emilio cicoli è stato una voce storica del doppiaggio italiano dagli anni trenta la voce di john wayne la voce di tanti altri primi attori americani inglesi la voce di di john gaben per dire insomma di tanti attori la voce storica john wayne lo ricordate forse per voi è molto lontano nel tempo però è la voce quella molto profonda molto bassa no così quindi e lui fu mi sentì che dove stavo doppiando me stesso in una serie televisiva italiano francese e andai a doppiarmi e poi alla fine del turno lui dalla regia con l'interfono mi dice viagini vuole venire un attimo in regia cacchio che vuole spararmi adesso a legato mi sono spaventato poi sono andato là e lui mi ha detto ma lei ha mai fatto doppiaggio e dico no signor cicoli non ho mai fatto ma le interesserebbe fare doppiaggio e dico sì certo ma non saprei da dove cominciare se non si preoccupi ci penso io però poi l'altra tappa importante successivamente nel doppiaggio è stato le relazioni pericolose john malkovich e dove doppiavo john malkovich e nello stesso anno sempre con questo grandissimo direttore che era mario maldesi che ha doppiato che ha diretto film memorabili da partire dall'uomo da marciapiede tutti i grandi film degli anni 70 80 via diretti lui ha messo ha portato per dire facciamo un esempio ha portato giannini a fare il doppiaggio proprio nel con al pacino nel quel pomeriggio quel pomeriggio tacani si quel maledetto pomeriggio da cani esatto dove era un giovane al pacino e anche un giovane giannini e quindi fu mario maldesi a sceglierlo e un'altra scoperta di maldesi fu ferruccio amendola che fino a quel momento lì faceva soltanto piccole parti piccoli ruoli di carattere e mario lo scelse per fare dustin offman in l'uomo da marciapiede nessuno ci credeva e da lì è partita la carriera di bruciamentola con con deniro con anche perito anche al pacino con stallone insomma partita da quelle da quella scelta molto coraggiosa di mario maldesi e con mario mario mi ha dato questa opportunità in nell 89 io ho doppiato da già facevo protagonisti già facevo cose interessanti e belle però lui mi dette questa opportunità primo i doppiare harrison ford in donna in carriera e fu il primo grande protagonista che ho doppiato subito dopo john malkovich in relazioni pericolose e subito dopo un tris d'assi proprio nell 89 90 batman michael keaton nel primo batman di tim batto quindi devo dire lì è stata un altro momento importante della mia storia insomma sì 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 che poi insomma il batman di keaton ad oggi risulta il più amato in assoluto e quindi la tua voce viene veramente collegata a tantissime frasi storiche iconiche momenti del batman di keaton e poi calza a pennello quindi complimenti luca perché ci ha dato delle emozioni in tanti film ma soprattutto in quello in ambito nerd e l'ambito nerd si io l'ho scoperto dopo perché io non avevo capito che cosa stavo facendo in realtà l'importanza del film che ha avuto poi nelle vostre generazioni anche quelle precedenti a voi voglio dire ha colpito una serie di generazioni dai che adesso magari hanno 50 anni mi ricordo persone che mi dicono ma tu sei la voce di batman io batman l'ho adorato per me e quindi assegnato veramente dai gli attuali cinquantenni fino alla vostra generazione neanche i più piccoli di voi devo dire grazie al genio di tim barton grazie a michael keaton e grazie anche la presenza di jack nicholson in joker era un bellissimo cast devo dire sì 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 una bella alchimia poi c'era sì andrea luciano una domanda a testa e poi passiamo alla chat prego allora beh io fortunatamente ho avuto modo insomma rispetto a mauro e luciano di parlare con te anche telefonicamente e quindi diciamo che ho lasciato la mia parte da da fan in quella chiamata così ho sfogato lì che potessi essere qui un po più diciamo imparziale nel modo tipo no volevo dirti sei stato il mio spoiler più lungo cioè da quando abbiamo fissato la data io ho periodicamente postato quattro clip di quattro personaggi diversi tra cui ovviamente batman elrond del signor di anelli kingsman e tigro facendo poi dei piccoli giochi con con le persone su instagram per vedere in quanto tempo sarebbero arrivati alla conclusione che poi l'ospite saresti stato quindi nonostante i tantissimi ruoli io non ho citati solo quattro ma insomma mi viene in mente jack frost che insomma jack frost che è tipo geniale qual è quello che ti è rimasto più impresso è quello che dici sono veramente legato interiormente a questo personaggio beh che ti devo dire per un fatto proprio di svolta della mia storia e anche per per la bellezza del film per il doppiaggio fatto magnificamente da tutti quanti con una cura e un amore infinito devo dire purtroppo per il mondo nerd magari è meno interessante però le relazioni pericolose per me è stata una veramente un evento una svolta si una svolta e poi veramente insomma so se vi è capitato di vederlo se non l'avete visto vi invito a vederlo anche se magari non fa parte del vostro mondo però è un grandissimo grandissimo film tuttora si vede con grande piacere e vi accorgerete degli attori che ci sono del grande lavoro fatto anche nel doppiaggio e della bravura di tutti quanti veramente tutti e quindi è un saggio di regia perché è un bellissimo film è anche un saggio di recitazione naturalmente per gli attori americani originali ma anche per l'ottimo doppiaggio che è stato fatto tant'è vero che viene utilizzato nelle accademie anche le accademie molto importanti viene utilizzato spesso come film di riferimento per studiare il doppiaggio quindi effettivamente se vi capita di spendere un'ora e mezza di un'ora e tre quarti di film vedetevelo perché vale la pena si fa guardare si fa guardare molto bene si no ma poi ci sono tanti altissimi film per carità questo mi è nel cuore per tanti motivi ma poi voglio dire che ti posso dire fino al discorso del re di un altro capolavoro insomma ci sono da tanti tanti film a cui sono legato altri magari meno meno famosi meno iconici però per me per dire un altro film che mi ha mi ha divertito tantissimo anche molto complicato da fare è quello di Woody Allen che era basta che funzioni non so se l'avete mai visto è un film a parte divertentissimo e c'è questo protagonista che doveva essere Woody Allen ma siccome Woody Allen era un personaggio controverso perché pur risultando anche comico comunque era anche un po' stronzo insomma abbastanza quindi forse lo ha affidato lo ha scritto per se stesso però lo ha affidato a un altro attore un ottimo attore americano uno è comunque capace di farla commedia e di farla molto bene ma il film è una delizia anche in tutti gli altri ruoli è stata una sfida difficile perché parlava a raffica velocissimo aveva dei monologhi lunghissimi molto complicati quindi è stata per me un bel un bel lavoro ecco molto molto complicato e poi tanti altri poi il signore degli anelli certamente quello è un film una saga pazzesca che voi conoscete a memoria assolutamente luciano io l'ho visto una volta io l'ho visto una volta luciano l'ha visto tipo 154 volte a film potrebbe recitarlo a memoria ovviamente e su quel film lì potete vuoi parlare a me e chiarirmi le idee perché forse non ce l'ho abbastanza chiare come voi luciano 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 è l'appassionato del signore degli anelli preco sappi che il mondo nerd ti ringrazia per essere tornato su michael keaton ovviamente dopo dopo cioè dopo un po di tempo diciamo rivederti dare la voce anche se in un altro prodotto di della casa della casa rivale però è stato fantastico e dato che ieri l'altro ieri non mi ricordo c'è stato l'evento del dc fandom dove è stato presentato il trailer di the flash dove si vede quest'ombra del batman di keaton di noi speriamo che no no speriamo cioè se non accassi se non se non gli dà la voce luca io io mi incateno nudo a prestare perché va di una petizione perché in questo mondo non è non è scontato nulla è perché se per caso va in qualche società strana o non lo so un direttore strano magari non lo fa fare a me non è non è detto io mi dispiacerebbe un po ti dico la verità però può succedere pazienza me ne farò una ragione però sarebbe veramente idiota perché c'è quella bella e quei due ritornetti insomma voglio dire noi faremo un casino luca se non te lo danno a te faremo quindi c'è no 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 dai non facciamo scherzo però ancora non so niente cioè non credo che sia arrivato il trailer ancora non l'ho fatto l'italiano no perché nel trailer allora hanno mandato un trailer ieri sul dc fandom un teaser ma non si sente la voce di keaton si vede solamente la sagoma di batman di spalle quindi qualora dovesse arrivare oltre però insomma vale tutto il film vale tutto il film e non si è girato perché aveva il mal di schiena e il mal di collo magari potrebbe essere una partecipazione di comparsa esatto un ruolo abbastanza speciale assistente perché è un grande attore comunque mai assolutamente all'anno un po dimenticato per un po di anni l'anno un po dimenticato poi finalmente è tornato a ma l'ha rovinato solo il beatleby jewish mi sembra guarda con birdman con birdman ha ripreso diciamo il volo ma il man è stata una grandissima prova d'attore cioè lì è stato fantastico veramente ma è il cast era proprio geniale lui norton emma stone ecco vedete questo però è un esempio dove io non non me l'hanno fatto doppiare lì il film e infatti sono rimasto un po dispiaciuto perché hanno fatto una scelta per carità un collega bravissimo io non ho nulla da dire contro il collega che l'ha fatto nulla da dire perché poi non dipende da lui la scelta il direttore però secondo me è stata una scelta non non proprio corretta perché in fondo mi si addiceva quel ruolo perché comunque farli richiamava un vecchio eroe no assolutamente naturale anche per l'età per tutto corrispondeva perfettamente però vedete che tutto nulla è scontato quindi non mi meraviglierei di nulla al tempo non potevamo fare petizioni sul nostro canale twitch ma oggi possiamo è questo è questo il giorno naturalmente voi non lo sapete ma forse lo sapete invece che comunque avete una una potenza di influenza notevole cioè vi ascoltano anche distributori e anche distributori secondo me vi ascoltano perché siete dei come dire fate da tramite tra le grandi produzioni e il pubblico quindi io penso che sentano ascoltino il vostro il vostro parere perché comunque non saluto avete che normalmente avete insomma in questo campo siete degli fuents e di sì sì ci siamo si dice così si dice così si se si ne faremo il possibile comunque sappilo luca perché noi grazie abbiamo abbiamo un obiettivo e lo porteremo avanti luciano devo contare su di voi soprattutto a questo punto sì 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 luciano prego allora intanto dico ad andrea che comunque beatlejuice è uscito prima di batman quindi mi sembra strano e no ma lui c'è stato dopo beatlejuice lui c'ha avuto un periodo in cui è stato veramente dimenticato dal cinema cioè nel senso lui c'è avuto un periodo dove ha lavorato tantissimo e mani periodo in cui gli hanno dato un anno prima di batman ma lui sta parlando dopo dopo batman dopo sto parlando più negli anni no fanno siamo fine anni 80 primi anni 90 capito è stato un po messo da parte è tornato in dieci anni ma quando la gente lo criticava tirava fuori sto film che poi non è nemmeno brutto insomma essere onesti sempre di tim barton alla fine ma non è brutto non aveva capito c'è nel senso quando uno va al cinema deve capire quello che sta guardando vabbè secondo me colchito ne è un ottimo attore quindi e la voce di luca poi ci si sposa benissimo quindi vero vero luciano la tua io mi diverto a doppiarlo è perché mi è congeniale quindi anche quando l'ho fatto nel cattivo di superman mi è piaciuto moltissimo da doppiarlo vero vero prego no superman non di spiderman non di spiderman l'avvoltoio volevo dire spiderman scusate sì 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 l'avvoltoio l'avvolto no avevamo capito non nessun problema luciano prego allora la mia domanda passa dalla sala di doppiaggio a davanti le telecamere e lo sapevo luciano 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 io sono o meglio sono sempre stato un fan di quella stagione di quella serie di quella stagione in particolare e della tua interpretazione davanti alle camere del professor adler alla quinta stagione una bella carugna però è beh come diceva david cevalier comunque i buoni alla fine dupalle in effetti comunque ha interpretato un ottimo diciamo villa di quella stagione e volevo chiederti se hai qualche esperienza magari da raccontare di quella interpretazione allora curiosamente mi arrivò quel ruolo dopo che avevo fatto per tre anni e mezzo cento vetrine la sua per cento vetrine dove facevo anche lì un personaggio molto molto negativo diciamo così però io mi divertivo molto a farlo e ho fatto il provino per per adler con con il regista l'ha fatto uno poi mi ha richiamato ne fatto un altro secondo e ed è andata bene e naturalmente la primo primo pensiero un po nel rapporto anche che aveva con la personaggio femminile c'era un po un rapporto che mi ricordava molto il anthony hopkins no nel silenzio degli innocenti esatto il silenzio degli innocenti quindi in qualche maniera io ho pensato a anthony hopkins perché era molto vicino come come personaggio e era lucido intelligente perfido cattivo manipolatore quindi tutte queste cose che erano anche di questo personaggio di questo professore adler quindi un po mi sono ispirato a lui e un po mi sono divertito a fare a fare quello che mi riesce bene fare i cattivi mi riesce bene un po per la faccia un po per non lo so non credo di essere un cattivello un buono con qualche punta di cattiveria ma però sono più buono che cattivo diciamo qualche punta di cattiveria che non guasta mai completamente buono poi dopo si rischia di essere di sconfinare l'altra zona nel fesso cioè non diciamola però insomma se la possiamo immaginare no vero 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 siamo passati da sala di doppiaggio a cinepresa visto che insomma sei un artista tutto tondo mi prende scusate chat dopo questa passiamo a voi passerei diciamo al lato in prima persona no quindi a quello su sul palco sappiamo perché abbiamo avuto modo di vedere e appena ci sarà possibile la prima sera in cui non siamo in diretta magari verremo sicuramente a trovarti assolutamente sei in scena con lo spettacolo il cuore rivelatore puoi parlarcene un po di più di questa di questa iniziativa certo certo allora intanto è una è una nostra produzione mia e di mia moglie di barbara è un allestimento intanto il testo e questo è molto curioso perché io non conosco l'inglese non lo parlo e non lo capisco e eravamo alla ricerca di un testo teatrale e ne abbiamo trovati tantissimi che ci interessavano ma erano tutti già opzionati da altre compagnie quindi a certo punto eravamo un po disperato io sapevo proprio dove andare a parare e allora dico fammi vedere un attimo su internet gli autori e drammaturghi inglesi contemporanei ripeto non conosco l'inglese quindi cosa ho fatto ho visto gli autori più importanti contemporanei inglesi e poi ho visto le cose che avevano fatto ultimamente e questo autore che si chiama anthony nelson aveva fatto un questo testo the tell the yard il cuore rivelatore tratto da un racconto di edgar all'ampo questo già mi ha suonato molto molto interessante molto poi ho visto che l'aveva fatto due anni fa al national theater di londra che più grande teatro di prosa di londra quindi dico ma se questo testo tratto da po è stato fatto in un grandissimo teatro londinese vuol dire che ha avrà delle una certa sostanza poi mi piaceva fare una cosa che che fosse non un teatro tradizionale mi piaceva fare qualcosa che infatti questo è lo diciamo subito un thriller horror psicologico quindi questo cosa comporta comportato un tipo di allestimento che fosse molto lontano da quello che si sa che si conosce del teatro uno spettacolo di intrattenimento sicuramente ma di alto intrattenimento abbiamo speso tantissimi soldi ma abbiamo fatto un allestimento dove il sound è potentissimo la linea sonora musicale meravigliosa è molto presente ci sono una scenografia molto efficace con una grande vetrata in fondo una manzarda con una vetrata enorme da cui nascono poi delle proiezioni che vengono dall'esterno cieli notti passaggio del tempo e poi altre cose invece più specifiche sull'horror poi effetti speciali quindi abbiamo usato effetti speciali che però in teatro potessero risultare molto forti e molto credibili se no fai una roba farsesca che non ha senso invece siamo riusciti a fare degli effetti speciali che acchiappano il pubblico e ci credi perché adesso non vi voglio spogliare niente non voglio denunciare nulla che acchiarire nulla però sappiate che ci sono degli effetti molto belli e un fuoco di fila soprattutto nel secondo tempo di cose pazzesche che succedono quindi questo per dirvi che è un teatro che in qualche maniera si avvicina anche un po al cinema perché noi lavoriamo con dei microfoni di altissima qualità quindi possiamo fare un messaggio naturalmente microfoni che non alterano la nostra voce voi se sentite avete la percezione che le voci escono da nostri corpi non dalle casse a destra o sinistra che sarebbe orribile quindi la percezione che escano dalle nostre dai nostri corpi però nello stesso tempo sono leggermente amplificate in maniera che si possa missare mixare la voce con la musica con gli effetti in questo è molto vicino al cinema tant'è vero qualche spettatore ha detto a un certo punto io mi sembrava più di essere al cinema che non al teatro tutto questo per dirvi che è un prodotto molto molto appetibile per un pubblico giovane perché il teatro purtroppo credo le nuove generazioni salvo gli appassionatissimi quelli che lo hanno sempre amato e coltivato ma se no le vostre generazioni in teatro credo ci mettano poco poco piede credo proprio di sì insomma ecco non vorrei dire una sciocchezza ma immagino insomma che anche voi stessi non sarete una abituati degli spettatori virtuali in teatro o mi smentite non allora io per quel che mi riguarda a teatro va sono andato qualche volta più che altro a broadway o a londra a vedere i musical perché sono un amante dei musical e quindi sono andato a non sa vedere mamma mia una clear day che era lo spettacolo di barbara straisand che poi è stato ripreso il fantasma dell'opera però questa cosa che ha detto a me personalmente anche se non sono un un frequentatore abituale di teatro mi attira tantissimo perché voi avete visti i trailer che abbiamo fatto sui social sì 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 abbiamo fatto quattro trailer che in qualche maniera rendono l'idea spettacolo naturalmente è più complicato e più però il trailer rende i quattro trailer che sono molto diversi tra loro rendono bene l'idea di che tipo di spettacolo andate a vedere e vi sarete resi conto che comunque è un po diverso da quello che si vede normalmente e questa è una cosa che ci stanno dicendo tutti quanti il genere horror in teatro in italia non si è mai fatto lo si è fatto a londra lo si è fatto in america new york ma in italia non siamo mai fatto noi abbiamo fatto questo genere l'abbiamo fatto all'altissimo livello lo posso dire senza falsa modestia perché è così e lo e abbiamo il coraggio di stare su fermi a roma per tre mesi cioè una roba da matti perché non lo non lo fa non l'ha fatto nessuno mai di stare tre mesi di seguito o allora il discorso è molto semplice o o si muore o si vive insomma nel senso che è una sfida all'ultimo sangue è un braccio di ferro è un braccio di ferro o ne usciremo vivi e allora abbiamo vinto la scommessa oppure periremo con onore ma periremo no se effettivamente dei trailer sembra una figata poi da come ce l'hai raccontato sembra veramente un qualcosa di nuovo e uno spettacolo dove ci si è messo tanto investimento tanta passione e dove si capisce che si è cercata l'innovazione in un qualcosa di molto bello quindi veramente complimenti dato che in chat me lo chiedono noi metteremo allora a questo punto domani anche sul nostro canale telegram voi se volete andate anzi dovete andare sui social che vi abbiamo messo a vedere però noi proprio per tagliare la testa al toro domani vi metteremo una bellissima clip tratta dal trailer che Luca ci sta dicendo oggi nel nostro canale telegram così che possiate anche vedere con i vostri occhi ed entrare nel mood dello spettacolo teatrale perché insomma avrete un bell'assaggio di quello che poi vi aspetterà ma io penso che guarda ti posso dire che tutti i giovani che sono venuti sono rimasti molto sorpresi molto anche così sbalorditi del tipo di spettacolo che hanno visto quindi voglio dire nel senso che potrebbe acchiappare un pubblico che non è mai andato al teatro questa sarebbe la cosa per noi la conquista più grande cioè far venire ragazzi giovani ventenni della vostra generazione riuscire a farli venire al teatro e non deluderli e uscire dalla sala dicendo cacchio ma ho visto una cosa che non ho mai visto non ho mai visto dal vivo con persone insomma con una energia vitale che da che è che da soltanto il palcoscenico no perché per quanto sia il cinema io lo adoro mi piace tantissimo ma uno spettacolo dal vivo che ha comunque questa questa capacità di acchiappare il pubblico e di tirarlo dentro non è roba da non è roba da tutti i giorni ecco quindi sì mi sarei molto grato se riusciste a a fare questo lavoro di per noi di promozione e di suggestione anche nei confronti dei dei vostri coetanei ci mancherebbe ci mancherebbe perché noi siamo veramente felici di poter dare spazio a iniziative belle e interessanti dove c'è qualità dove c'è passione quindi molto molto volentieri anzi come ha detto andrea come avremo una serata libera dalle dirette noi in primis verremo a vederlo quindi guardate noi tanto stiamo insieme a lungo e facciamo dal giovedì al sabato alle ore 9 e poi la domenica alle 17 e 30 quindi insomma avete un'ampia possibilità di fantastico sicuramente sicuramente un sabato una domenica perché noi siamo in diretta tutte le seri però ci verremo ci verremo per venire anche a me eh vai Lucio vai Lucio eh devo prendere un posto ma tu fai un pullman fai un pullman metti su una ventina di persone 30 persone e vieni a trovarci dalla Sardegna viene male prendi un bel volo all'Italia no ormai manco posso più di un bel volo all'Italia prendi un bel volo te lo affitti con tutti i posti prenotati prendo il charter direttamente mi chiedono allora chiedono dalla chat se ci sono delle date in programma anche a dicembre abbiamo detto per tre mesi quindi sì abbiamo messo il link di ciò dite ma quanto siete efficienti ragazzi dunque Luca è vero quello che dici cioè è vero quello che dicevi prima ovvero che comunque sia le generazioni io qua in mezzo sono più piccolo quindi posso affermarla questa cosa è che c'è poca molto spesso i ragazzi sono poco attratti dal teatro io fortunatamente o sfortunatamente avendo avuto un fratello che fa l'attore si diletta insomma nella scrittura quindi è all'interno del mondo del teatro ho avuto spesso modo di appunto vedere e partecipare a queste serate che poi in realtà ti lasciano sempre qualcosa no quando vedi lo spettacolo non è vedere il film in un certo senso ti travolge come se fosse un pugno diretto quindi sarà bellissimo per noi riuscire magari a portare poi oltre ai nostri fantastici faccini anche magari buona parte delle persone che ci seguono a vivere questa esperienza insieme e poi ti faremo sapere cosa ne pensiamo brevissima io sarei veramente sarebbe un regalo enorme che avervi in teatro e se poi riuscite a portare anche altre persone appunto gli appassionati che vi seguono sarebbe per noi una vittoria ecco ti dico la verità perché sono sicuro che non rimarranno delusi ecco di questo io ne sono più che convinto perché ormai siamo in scena da qualche giorno e abbiamo già capito come vanno le cose quindi lo possiamo dire possiamo dire che il pubblico rimane molto 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 soddisfatto quindi vi aspettiamo a braccia aperte veramente a braccia aperte fantastico poi però invece per quanto riguarda invece il musical noi siamo io e Barbara due amanti del musical io Barbara ha studiato veramente veramente ha studiato canta e ha studiato in maniera specifica il mondo del musical ha fatto una scuola di musical importantissima quindi lei è molto più ferrata di me ma io nel mio piccolo ho fatto ho fatto la versione italiana che era molto molto bella di Billy Elliot a Sistina la sono fatta il papà di Billy e poi ho fatto My Fair Lady un musical più classico una ventina di anni fa la prima edizione sempre a Sistina quindi insomma ho frequentato e frequento il musical mi piace moltissimo e in qualche maniera questo qui questo spettacolo non c'entra nulla col musical però come dire la l'idea di fare uno spettacolo che abbia un alto tasso di intrattenimento ma un intrattenimento che comunque è supportato da una parte tecnica eccellente cioè da un rigore e una qualità di tutti i componenti tali che diventa vicino a quella a quella capacità che ha il musical a Londra no di di essere così attrattivo cioè tu io per lo meno immagino che anche tu avrai avuto questa esperienza vedi un musical e tu nel giro di 30 secondi un minuto sei sempre al coscenico con loro hanno una capacità di riprendere ecco noi non non vogliamo competere a quel livello lì però abbiamo fatto un tipo di discorso simile con un testo invece di prosa però con questi effetti di horror molto belli molto belli quindi insomma sono molti mondi che collimano insomma sono vicini bene 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 no 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 già vedo che quasi stanno organizzando andiamo si spanchi vengo anch'io dai ragazzi allora come ha proposto andrea potremmo fare anche una cosa molto bella raduno man under the hood per andare a vedere il cuore rivelatore ossia ci incontriamo ci guardiamo questo spettacolo e poi alla fine ci facciamo anche una pizzata insieme con ci facciamo una chiacchierata ci facciamo vi facciamo delle intervistine il nostro ragazzo che è come voi è un po nerd come come voi che però si fa la promozione sui social perché naturalmente è molto più bravo di quanto possa essere io anzi io proprio non sono una schiappa e lui è bravissimo conosciuti i meccanismi e ci fare i trailer ha fatti lui li ha montati lui quindi insomma è un ragazzo di 25 anni quindi insomma penso più o meno sia forse un po più grande di voi ma insomma siamo lì grosso modo e imparate le interviste imparate le interviste dopo lo spettacolo e poi portate uno striscione vostro che ne so abbiamo tutti abbiamo tutto abbiamo bandiera abbiamo perché noi facciamo anche delle live noi facciamo anche delle dirette itineranti all'interno di eventi fiere festival e quindi abbiamo banner abbiamo il fondale abbiamo di tutto quindi assolutamente ci riconoscerai infatti ragazzi vi ripeto questa cosa ovviamente poi iniziate già a discuterne su telegram ma così poi magari riusciamo ad organizzarla in tempi umani per tutti coloro che sono di roma e dintorni possiamo organizzarci per andare per passare un pomeriggio insieme magari la domenica magari vediamo un sabato una domenica preferibilmente la domenica così passiamo il pomeriggio insieme andiamo a vedere lo spettacolo e poi perché no eventualmente si rimane e si mangia una pizza davanti al teatro c'è una pizzeria forno a legna forno a legna non si fa nemmeno tanto strato andate andate qua leggo in chat prenota a 10 posti fantastico dai poi ci mettiamo d'accordo ci mettiamo d'accordo però questa cosa la facciamo mi raccomando una cosa ragazzi l'unica cosa che vi devo dire è siccome siamo fino a lungo fino a capodanno non vorrei non vorrevo dirlo perché non vorrei che poi la gente come 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 è normale che succeda e io sono primo a farlo se vabbè ci vado vi prego di organizzarvi prima possibile perché così ci aiutate nel passaparola perché noi vivremo vivremo se il passaparola funziona altrimenti non ce la faremo ci proviamo dai facciamo ci proviamo questo lo prendiamo proprio come sfida personale mandatemi delle proposte di date su telegram calcolando anche che noi siamo però a lucca a inizio novembre ea milano il metà novembre quindi cerchiamo di organizzarci però non oltre mettiamo una da mettiamo non oltre venti giorni da un tempo mi sembra un tempo ragionevole per chi non è di roma per chi non è di roma saltate la fiera e venite al raduno man under the hood saltate una fiera venite al raduno a roma pernottate una sera due sere una sera a roma e boom venite con noi ma è sempre una bella esperienza anche per fare un giorno a roma a voglia grande andrea vai dai andate ci siamo presi questa data e questi 20 giorni dai 20 giorni e si fa questa cosa adesso passo il telegram vedo che già poi in chat stanno stanno già organizzandosi siete fantastici a partire da oggi il countdown esatto esatto dai adesso veniamo a voi e se non mi bacchettate mi scrivete in privato e mi rompete le scatole ma io ho fatto le domande quindi adesso passiamo a voi facciamo questa questo tempo rimanente a rispondere alle vostre domande se se luca è d'accordo ovviamente certo e sono qua apposta allora la prima che vedo è un'altra cosa dato che twitch è strano voi avete fatto tipo 150 domande e a un certo punto scorrendo twitch mi andrà all'ultimo quindi io perderò parte delle vostre domande se volete che venga letta riscrivetela quando io vi dirò oddio ho perso le domande ok allora buona questa accadrà fra cinque minuti allora tommy sempre sul pezzo 03 buonasera che esperienze ha avuto nel doppiare sir reginald hargreaves in the brella academy complimenti per dottor house e reart in kingsman che ha reso questo personaggio uno dei più grandi attori nel mondo del cinema britannico allora mi dispiace perché purtroppo io ho una memoria per come dovete capire che lo faccio tutti i giorni il doppiaggio certo quindi molte cose io negli anni non me le ricordo le cose anche importanti non è che me le ricordo tantissimo quindi faccio una figura di cacca diciamo ripeti un attimo la domanda quale era il personaggio il personaggio era reginald hargreaves in the umbrella academy the umbrella academy è una serie molto recente netflix lato supereroistico mi può aiutare andrea perché io purtroppo la devo ancora recuperare quella serie allora voi considerate questo che noi lavoriamo sempre in colonna separata quindi io faccio il mio personaggio mi raccontano un po la storia però io non ho idea di che serie sto facendo finché non la vado a vedere anch'io su netflix quindi ho qualche difficoltà a dirti adesso nello specifico il che cosa mi dispiace di essere così impreparato ci sta ovviamente ovviamente soprattutto luca che ha una carriera bellissima lunghissima e tantissimi personaggi non può ricordarsi la serie è molto bella quindi andrò a vederla e poi la serie è bella la serie è carina gli risponderò in privato insomma non lo so va bene va bene luca considera che c'è un tuo collega gerola moltieri che quando è venuto live da noi non aveva visto una serie the boys che è una serie amazon gliela abbiamo consigliata e poi praticamente me l'ha commentata su whatsapp c'è lui ogni volta vedrà una puntata a finire mi diceva ma quindi questo personaggio si comporta lo capisco veramente è così per noi purtroppo è così perché io magari lo stesso giorno passo da una serie a un'altra a un'altra e quindi a volte non ci capisco niente cioè poi succede che vado accendo la televisione magari barbara mia moglie vede una serie e dico ma cacchio ma questo l'ho fatto pure io ci sono pure io cioè sono messo male ecco come capite ci sta però ci sta ci sta ci sta invece una domanda di spy under the hood questo è sull'iconico batman complimenti all'ospite la sua voce su batman mi fece innamorare del personaggio come è stato doppiarlo è stato fantastico perché era ripeto kiton è un attore che adoro poi questo fatto di dover fare praticamente due personaggi perché lui faceva si vestiva da batman e aveva una voce quando non era batman aveva un'altra voce quindi dovevi comunque interpretare in qualche maniera due ruoli quindi è stato molto 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 complicato ma anche divertente e poi erano uno una un film tra i primi blockbuster importanti grandi film che che doppiavo quindi è stata un'emozione particolarissima e ripeto poi allora si doppiava con una con dei tempi che oggi ci sogniamo quindi curavamo veramente ogni particolare per questo che poi al fine certi film si ricordano si ricordano in maniera particolare perché veramente il lavoro era fatto con una meticolosità con una artigianità artigianità analità aiutatemi artigianalità in maniera artigianale faccio una figura anche va bene che non so neanche articolare le parole va bene comunque pazienza non importa però devo dire appunto che era veramente un lavoro fatto per rendervi idea oggi lo stesso film fosse doppiato oggi batman quello lì in button che ho doppiato io io l'avrò fatto con adesso approssimativamente vi posso dire tipo 20 turni di doppiaggio ecco oggi te lo farebbero fare in 45 turni la leggera differenza che c'è quindi il tempo che aveva a disposizione per studiare analizzare capire che cosa faceva batman come respirava tutte le piccole cose le sfumature che faceva quindi che vi devo dire è cambiato anche questo è un mondo che è cambiato tantissimo poi per carità si riesce ancora a lavorare bene perché perché hanno acquisito una professionalità alta però devi correre come un cerbiato inseguito da un leone immaginiamo immaginiamo allora invece un'altra domanda è aspettate allora c'è montimir che ha fatto ha rinnovato l'abbonamento quindi grazie mille montimir per il premio di cinque mesi e c'è un donatore anonimo che ha regalato cinque abbonamenti di livello 1 air professore dora claudio marco 33 30 trivia e rockstar 996 quindi grazie mille a tutti per il supporto pure un bell'applauso scatta quindi anche avete fatto anche partire live train quindi se volete donare o fa abbonarvi questo è il momento giusto del live train c'è una domanda invece se non faccio questa fan page mi uccide roberto lui è un grandissimo appassionato di da un tonebby quindi dice dice se puoi parlare ci fa tre domande in una paraculo fammi anche dice a se puoi parlarci della tua esperienza di doppiaggio in una delle serie tv che amo di più da un tonebby ps uno dei miei nick il conte di grantam 2 oltre ai complimenti per la tua carriera ti chiede qual è la tua stagione preferita e cosa ti accomuna a robert crowley quindi tre domande domandine toste vero vero è una serie devo dire che abbiamo subito capito che era una grandissima serie dai primi turni abbiamo capito che era di una qualità superiore per la cura l'attenzione al del dettaglio il cinema inglese era ogni 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 puntata era un film veramente con una cura del dettaglio e una cura della recitazione di tutti gli attori pazzesca e quindi abbiamo capito che avevano avevamo in mano una grande una grande serie cosa che secondo secondo me capitò per combinazione se la beccò la compro rete 4 sbagliando clamorosamente nel senso che non sapevano che cosa avevano tra le mani tant'è vero che ti fu sottratta quasi subito non era proprio la serie giusta per rete 4 e questa è una piccola così aneddoto diciamo però ha avuto un enorme successo veramente e ci sono degli appassionati che lo rivedrebbero dieci volte di seguito e poi ci sono personaggi come la nonna che è strepitosa un'ironia una maggie smith bravissima ma tutti gli attori sono di grandissimo livello ma io con con il protagonista che ho doppiato in realtà diciamo mi ha scelto il direttore ci conosciamo da tanti anni credo per per una mia caratteristica quando voglio cioè quando c'è necessità su essere come dire su essere elegante o quindi un po inglese tra virgolette riesco a farlo mi fanno fare anche i trucidoni e per carità i trucidi tremendi e quindi però una discreta duttilità per cui mi riesco a ad incollarmi se una faccia un attore è giusto per me io mi mi incollo come si dice in gergo mi incollo su quella faccia e quindi lui era inglesissimo proprio il massimo della snobberia dell'inglesità e quindi ci voleva una voce comunque che fosse elegante che non fosse troppo pesante ma neanche troppo leggera sono una voce che si adattasse ho dovuto sicuramente lavorare con una con un filo di voce cioè molto morbido molto con una tecnica dove era importante essere molto molto morbidi e molto fluidi e quindi è stato interessante è stato un bellissimo lavoro ma devo dire la prima serie mi ha colpito particolarmente quindi devo dire la prima serie ci sono legato particolarmente perché ho cominciato quel lavoro non sapevo dove sarebbe andato a finire però insomma mia quella mi ha colpito veramente poi dopo si è molto belle ma quella mi ha impressionato perché erano una novità assoluta poi non mi ricordo c'era un'altra domanda i tratti che ti accomunano i tratti sono appunto il tratto che io in realtà non sono nella vita non solo per niente un lord ma però ho la capacità di diventarlo per esempio io sono ma se mi vesti elegante io non mi vesto mai quasi mai elegante mia moglie mi riprova da questo io sono sempre maglione magliettina jeans e così quindi difficilmente mi vesto elegante però quando mi vesto elegante o elegante o in divisa io sto una favola quindi alla fine sono onesto ce l'ho una un lato che non sfrutto che non utilizzo nella vita però ce l'ho volendo ce l'avrei ecco questo questo lato ok ok allora io ovviamente non posso leggere tutte le domande anche dei ruoli minori perché mi vorrei concentrare diciamo sui ruoli principali però vi dico sono arrivate domande su conrad grayson su dionisio di c'era una volta pollon su giancarlo esposito in star girl e clyde in raspaccatutto in leonardo da vinci mister pibola di sherman quindi sono arrivate tantissime domande per te luca tante tante e di tutte queste io l'unica a cui posso rispondere toni di giancarlo esposito mi pare si chiara ok allora la domanda su giancarlo esposito era come è stato doppiare charlie brubaker interpretato da giancarlo esposito in star girl beh guarda è un attore molto particolare mi ha sempre mi ha sorpreso perché è un attore che l'originale fa delle cose molto curiose a un dei ritmi dei cambi improvvisi di ritmo di tono alto basso è molto funambolico e molto divertente mi fa ridere questa cosa che si chiami ciancarlo esposito e non so come sia venuto fuori però mi fa ridere questa cosa vabbè insomma una sciocchezza questa per carità però un attore veramente di grande talento e poi versatile particolare molto curioso diverso dagli altri non è mai scontato ha sempre intonazioni che ti sorprendono è curioso anche nel nell'altra serie bellissima come si chiama barbara the good father come si chiama quella serie quale di giancarlo esposito della disney quella cosa si chiama con la serie importante bellissima the good father of harley the good father of harley ma ho capito non l'ho vista non l'ho vista quella è fighissima bella allora dobbiamo recuperare dobbiamo recuperare quella è molto violenta è perché parla della della degli anni sessanta fin anni sessanta della mafia quella italiana quella dei colore c'è un grandissimo forest wittaker bravissimo un grandissimo cast ed è fatta molto bene veramente l'ha fatta la disney non si capisce come sia possibile nel canale dove fanno anche cose molto però vedetela perché è una serie bella veramente bella da recuperare da recuperare assolutamente invece c'è una domanda su un ruolo che a me personalmente è piaciuto tantissimo per il quale c'è scritto che hai vinto anche il premio voci nell'ombra il 2010 18 18 come miglior voce non protagonista che è la tua esperienza in the good doctor dove hai dato la voce ad aaron glassman the good doctor poi serie bellissima che parla anche di un dottore con autismo però molto molto dotato e tu facevi proprio mi sembra il direttore il primario il primario direttore ma anche diciamo un suo un po mentore il suo tutore capito è mi ero preso a cuore questa sua capacità enorme di 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 essere un medico eccezionale pur avendo questa questo problema di autismo fortissimo tra l'altro fortissimo però quindi molto caratteriale molto particolare e aveva un rapporto molto stretto il personaggio mio con lui e tuttora adesso arriverà l'altra serie ancora non è finita la nuova stagione devo ancora fare la nuova stagione comincerà a breve il doppiaggio voglio dire bellissimo continua io dico ma come ancora e beh sì ancora non so che la sesta la quinta non so dove dove siamo arrivati comunque stanno continuando quindi vuol dire che la serie è molto bella e questo personaggio che faccio è un attore anche lui molto bravo perché molto molto singolare ha una bella personalità poi si capisce che un attore di l'ironia perché è sicuramente un attore ebreo questo significa che ha tutte le ironie che sono tipiche del del mondo ebraico soprattutto quello new yorkese in particolare ed è un attore che fa un sacco di di pause ed è capace di sorreggerle queste pause molti pensieri cioè lo recita più quando non parla che quando parla paradossalmente è un attore dove lavora molto con gli occhi con gli sguardi con i tempi bello bravissimo attore è una bella serie anche sì 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 e allora mi ero perso l'abbonamento di jacky regalato a jack the dubber quindi grazie e poi oggi cicciomora sei sempre più top top sub gifter con altri cinque abbonamenti regalati quindi ragazzi in chat scrivono è una competizione ormai no assolutamente sì quindi grazie e benvenuti nell'armia cavaliere di luce david animal 2006 udab di matteo licitra avere tra gnare vincenzo veneziano 95 stasera domani domani mi vado a comprare un punto esclamativo telegram entrate nel canale telegram e chiedete di jacky per entrare nel gruppo esclusivo e io mi andrò a fare una scena con ostrica e champagne ci stanno sempre ci stanno sempre andrea andrea crea 25 ti chiede invece buonasera a tutti non so se già stata fatta come domanda no ma volevo chiedere a luca come è stato doppiare colin furt nella saga di kingsman dove interpreta il mentore henry art e la sua battuta i modi definiscono l'uomo mi è rimasta impressa nella mente per come l'ha recitata beh sì no guarda è un bellissimo film mi sono divertito moltissimo e lì vedi per esempio torna la mia inglesità perché chi più oltre al protagonista robert grant nell'alto nebbì kingsman proprio è l'inglese più inglese non si può quindi ho dovuto ricorrere al mio lato quello più elegante più sofisticato un po ironico un po britannico che poi poi sono cose curiose questa cosa della dell'attore che poi fa dei personaggi che sembrerebbero molto lontani da quello che è la mia realtà e invece poi mi ci trovo bene il film è delizioso molto ironico d'azione però molto ironico molto divertente e con inferta è un grande signore insomma della del cinema no è sempre molto inappuntabile veramente lui è veramente elegante è veramente il mondo il mondo inglese e lui sono la stessa cosa insomma lui è alla fine fatto anche il rototipo dell'inglese elegante no poi è quello quello è stato un film che è entrato è rimasto nel cuore di tanti soprattutto la tua frase il tuo personaggio come gli dai la voce i modi definiscono l'uomo cioè poi quel pezzo non so se te lo ricordi dentro la chiesa dove lui quella scena è geniale e come posso dire non te l'aspetti no rimani a bocca aperta quindi un film geniale che nessuno se lo sarebbe aspettato all'inizio perché diciamo kingsman è una saga relativamente nuova ed era la prima volta che lo mettevano sul grande schermo quindi veramente complimenti sì no grazie perché è un film a cui mi è piaciuto molto fare di dico la verità mi sono divertito poi l'ho visto con grande piacere anche al cinema l'ho visto volentierissimo sì poi abbiamo avuto anche alessandro quindi potremmo ipotizzare anche uno speciale kings magari io ho il fancopop di harry art il pupazzetto di harry piccolino ci tengo moltissimo a quello magari me lo faccio firmare direttamente da luca c'è faccio faccio un giro con la telecamera con la in casa tu troverai una silva di pupazzi quante ne hai barbara quanti potrebbero essere così buttandola la no oltre un centinaio bellissimo non essere modesta barbara la casa è piena io sono circondato da pupazzi la notte e il giorno è una collezionista come me quindi la capisco anzi tanta stima tanta stima e poi anche di personaggi di cartoon giapponesi come va di Anna dai capelli rossi ah bello sì 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 classici 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 no proprio anche poi anche arsegno lupen lupen naturalmente c'ha anche il mio carissimo 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 tigro eh quello non poteva mancare quello non poteva mancare ragazzi tigro io lo adoro insomma per me tigro è importante al pari di tanti altri grandissimi attori che ho doppiato guardi non lo gli voglio bene come fosse mio figlio tigro e ci credo ci credo anche perché poi diciamo cosa c'è di più grande di winnie de pooh cioè nulla è una cosa enorme batman ma l'ha doppiato beh sarebbe una bella spesa tigro è il personaggio diciamo più simpatico all'interno di winnie de pooh è quello che non puoi non amare e non puoi non amare perché cacciarone fa casino sbaglia fa delle cose c'è tenerissimo è tenero perché appunto è un tigro una roba che fa paura a nessuno no anzi fa veramente tenerezza è un personaggio delizioso molto simpatico è vero allora c'è un come mauro dimmi sai chi altro sei quale altro personaggio molto importante in realtà nel questo però più lato anime ha doppiato personaggio che è un po in secondo piano in realtà per quanto sia ma non sono un esperto della cultura giapponese quindi non ma questo sono sicuro che lo conosco allora dimmi è un anime che si chiama dragon ball si dragon ball lo conosco ok e ha dato la voce a bardak ah ok lo conosco il padre di go lo conosco lo conosco quindi c'è personaggi iconici e dove trovarli cioè nel senso a proposito di personaggi iconici c'è montimir 97 in chat che chiede se puoi darci un tuo giudizio su come è stato dare la voce ad alfred nella serie tv gotham ah bello 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 alfred è un altro personaggio che mi fa piacere che lo citiate perché è un personaggio di una come dire di una forza di una umanità di un amore nei confronti di questo ragazzo è una dedizione assoluta è una persona solida forte però tenera anche e ha un questo amore veramente profondo per questo bambino questo ragazzo giovane ragazzo e poi però è cazzuto ha una forza una determinazione una capacità di anche di reagire no è tostissimo però poi ha questo lato anche invece dolce e tenero un bellissimo personaggio e un bravo attore è una serie anche secondo me interessante bella tutto sommato no sì 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 bellissima bella perché richiama tutto il mondo gotico insomma un po' alla Tim Burton molto interessante è stata una serie che credo sia andata anche molto bene sì 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 è andata molto bene cinque stagioni mi sembra abbiano fatto di Gotham eh sì mi pare quattro cinque 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 addirittura va bene nel frattempo ci sono molti complimenti leggo qualcuno sperando che venga letto signor Biagini lei ha scolpito nella memoria di tutti la frase io sono Batman grazie date la voce al mio secondo supereroe preferito e poi penso che sia una di quelle frasi che se tu vuoi chiedere a dieci doppiatori quella è la frase che vorresti doppiare un giorno la frase che desidereresti di doppiare un giorno è proprio io sono Batman cioè nel senso è quell'iconicità è quella totalità no del personaggio in una sola frase certo certo insomma Batman è sempre penso un duro compito per chiunque perché insomma è un personaggio ingombrante parecchio ingombrante è molto ingombrante sì hai ragione è ragione però l'ho detta tante volte questo mi ho dovuto ripetere diverse volte a vostri amici coetane eh immagino volevano sentirla immagino noi combattiamo anche su questo fronte cioè noi ovviamente la chat lo sa perfettamente quello che diciamo sempre è che gli artisti vanno rispettati cioè che voi non siete dei jukebox quindi per quanto uno possa essere legato al personaggio alla frase a un tipo di doppiaggio particolare uno deve rispettare la professionalità dell'artista che non è che posta tutto il giorno a mandate vocali dove ti dice io sono Batman perché c'ha pure una vita oltre il lavoro c'ha pure una vita esatto c'ha pure una vita e poi c'è anche un'altra cosa ragazzi che fuori contesto per carità può essere sempre simpatico e lo faccio volentieri non mi costa nessuna fatica farlo lo faccio volentieri quando mi viene richiesto però fuori contesto è un'altra cosa insomma non lì c'è tutta un immaginario intorno un costume una arrivi con una sei dentro un'atmosfera particolare che io dica la famosa frase lì lo dica così sì può essere simpatico però per esempio io tigro me lo fanno fare spesso mi telefono le mamme ai bambini adesso non c'è più ma adesso qualche anno fa quando era ancora lo mandavano in onda ah per favore mi fai mio figlio mia figlia vede tigro lo ama tantissimo li puoi far sentire e quindi dovevo farlo lo facevo con piacere finché era il telefono andava bene però mi sono sempre risultato e dico ragazzi io non posso farlo se mi faccio vedere come sono quelli un bambino rimane deluso dice ma anche mi ha chiesto un deficiente che fa mi sarei dovuto comprare un costume da tigro travestirmi da tigro e andare nelle case degli amici ad Halloween è vero sarebbe stato fighissimo però c'è anche da dire che i bambini sono terribili loro sono senza filtri quindi effettivamente c'era il rischio che ha detto Luca che il bambino guarda il video si dice ma oh ma che vuoi te ma chi è questo ma chi sei Mauro dimmi Lucia che poi Luca è stato anche l'imperatore di tutte le russie cioè altro ha fatto il re in inghilterra con l'inferno è stato anche nel cartone Anastasia il classico del 97 l'imperatore di tutte le russie cioè esatto altro che conquistatori lui ha fatto tutto vero 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 ha fatto anche Ramses nel si nel principe d'Egitto nel principe d'Egitto il forse quello il film più bello se non mi viene della Dreamworks giusto potrebbe essere si era veramente bello si sono usciti anche gli hashtag I love Biagini amore per Biagini sto leggendo quanto amiamo il nostro ospite da uno all'infinito se siete troppo amorosi amorevoli io vi voglio bene perché sono cose belle da sentire e mi fanno anche un po' commuovere ragazzi davanti a tanta bravura sbaglio anche le parole a digitarle in chat vedi nel frattempo c'era anche la domanda c'è un'altra domanda su sex education come è stata la presidenza il preside Groff però io andrei avanti perché sono proprio tante le domande quindi non avendo molto tempo vorrei concentrarmi su alcune specifiche domande sulle moto prediligi più quella sportiva quella da strada hai già risposto prima e ho risposto abbondantemente sportiva ha volato alla casa di Borgo Andrea aveva anche chiesto la domanda su Godfather of Harlem era stata fatta due ore fa però abbiamo già risposto quindi l'avevano anche citata del mafioso Bumpy Johnson esatto perché lì c'era un Giancarlo Espogito dove faceva un pastore credo evangelico non so Barbara cos'era un pastore insomma di questi sì tipo evangelico e un paraculo incredibile cioè un personaggio pazzesco perché aveva una fortissima influenza anche sulla politica americana perché si connetteva parlava con Kennedy parlava con tutti i presidenti di americani e quant'altro quindi era molto influente con Malcolm X con Luther King però e quindi poi faceva le sue prediche tutto quanto cioè aveva una veste diciamo professionale che praticava però nello stesso tempo andava andava nei bordelli andava a Parigi nei quartieri malfamati insomma era un donnaiolo tremendo pazzesco quindi questo lato Giancarlo Espogito è stato bravissimo quel film in quella serie veramente bravo e c'è questo Forrest Whitaker e lui strepitosi e le donne anche bravissime la recupereremo da recuperare Roberto ti chiede ha avuto modo di doppiare sia tanti attori bravi britannici che statunitensi e il loro tipo di recitazione di solito è diverso quello inglese rispetto a quello americano con quali attori ti trovi più a tuo agio? ma io guarda cerco sempre di fare un lavoro proprio specifico su ogni attore che incontro quindi cerco di adattarmi il più possibile cerco di capire qual è la sua maniera i suoi ritmi il suo modo di interpretare il personaggio le sue caratteristiche non solo vocali ma più che altro proprio di intenzioni di emozioni espressioni facciali lo studio molto a fondo cerco di di fare il più possibile quello che che ha fatto lui in originale a volte ci riesco a volte un po' di più a volte un po' di meno però insomma questo è il mio lavoro a volte invece per dire non sempre si fa così no ci sono attori che doppiatori che fanno prevalere la loro vocalità sui personaggi che doppiano quindi cosa succede? succede che sono bravissimi lo stesso fanno un ottimo lavoro però sono sempre riconoscibili nel senso che doppino un pinco pallino tu riconosci subito la prima frase che dicono capisci subito chi è che doppia ecco io anch'io sono riconoscibile certo perché non sono è ovvio la voce è la mia voce però cerco sempre di fare il personaggio che ho di fronte quindi a volte lavoro con dei toni più di testa a volte con dei toni più di petto a volte con ritmi velocissimi altri con ritmi molto lenti tant'è vero che mi fanno fare in genere mi fanno fare personaggi che vanno dai 50 agli 80 quindi la cosa che mi fa più piacere è quando mi dicono ma sai che non ti avevo conosciuto cioè ho dovuto aspettare i titoli di coda per capire che eri tu persone che mi conoscono quindi questo per me è un grandissimo complimento per altri colleghi invece gli piace essere riconosciuti subito sono due modi diversi di fare questo mestiere certo nel frattempo è accaduto quello di cui vi parlavo prima Twitch mi è andato in basso ho perso tutte le domande però un paio le ho lette quindi le farò se ne volete una proprio al volo risposta scrivetemele di continuo ne scelgo due tra le più belle però quella che avevo letto interessante era mi sembra di Pietro e ti chiedeva dell'esperienza in Dottor House e se è stato diciamo in un certo senso pesante raccogliere l'eredità che poi è stata del del compianto Sergio Di Stefano sì beh sì guarda ti dico la verità quando è successa questa cosa che tra l'altro era un mio carissimo amico quindi è stato un grande dolore e poi mi è stato detto ma vuoi fare il provino perché hanno fatto il provino a tantissime persone prima di scegliere perché era un personaggio delicatissimo amatissimo quindi ci tenevano tantissimo a fare la scelta corretta io sapevo che andavo incontro comunque a un rischio enorme perché per forza di cose dopo che mi pare che fosse sei anni sei stagioni ha fatto Sergio quindi la voce era legatissima la faccia di Hugh Glory era legatissima alla voce di Sergio e quindi sapevo sapevo che rischiavo grosso e quindi non sapevo neanche se augurarmi di vincere il provino ti dico la verità perché alla fine è sempre un'eredità scomoda dove è più facile che tu perda che tu vinca in quei casi insomma sei più criticato che non l'ho dato quindi però ho fatto il provino alla fine siamo arrivati in finale in due e alla fine l'ho spuntata io mi hanno detto che addirittura la produzione americana e addirittura Hugh Glory stesso ha sentito le voci poi se è vero o no io non te lo so dire così mi hanno riferito e io la prendo per buona perché mi piace questa idea che fosse ascoltata da loro insomma però anche se non fosse così vabbè sono stato io sono stato scelto e a quel punto avevo due strade una quella di di seguire un po' le orme di Sergio ma sarebbe stato una non mi sarebbe piaciuto e non non mi andava quindi cosa ho fatto ho fatto quello che faccio sempre ho seguito Hugh Glory e Hugh Glory in originale se poi lo sentite è molto molto distante a quello che ha fatto Sergio nel senso che Sergio aveva una voce bellissima un colore un timbro meraviglioso e quindi si è incollato benissimo Hugh Glory ma gli ha dato la sua impronta l'impronta di Sergio Di Stefano ascoltando Hugh Glory mi sono accorto che Hugh Glory era un attore completamente diverso cioè faceva cambi cambi di intonazione velocissimi uso della voce molto molto varia non era statico per niente non aveva una voce lineare come sembrava nel doppiaggio di Sergio e quindi ho fatto ho cercato di fare quello che faceva un po' lui all'inizio con grandi critiche perché naturalmente non riconoscevano ma che sta facendo Sergio Sergio insomma ho avuto molte critiche iniziali però poi alla fine succede sempre così che tu ti affezionando a voce che hai sentito a lungo per tanto tempo devi dare il tempo alle persone di abituarsi ad un'altra località ad un altro modo e mi sono accorto che poi dopo un po' di tempo dopo qualche puntata sono cominciato ad arrivare degli apprezzamenti ma la sono sudata devo dire la verità perché non era facile effettivamente però mi sono divertito proprio a giocare con lui perché il glory è divertente come attore non è un attore serio è un attore pieno di tonie di sumature e io ho cercato di rispettarlo in questo senso in più sapevo che era un motociclista appassionato come me e quindi ci ho mandato anche una mente tutto torna eh? è vero è vero tutto torna l'ho invitato però poi la lettera non è mai partita non è mai arrivata non lo so l'avevo invitato a venire in pista con me gli avevo fornito una moto da corsa perché lui so che va in pista anche lui a girare con me al Mugello alla pista del Mugello bello però poi questa lettera ce l'ho ancora lì ce l'ho ancora qua non è mai stata spedita in realtà chissà se sarebbe venuto chissà e nel frattempo ringrazio ovviamente Triti per il ride grazie mille benvenuti anche ai raviolini come come e che bellissimo nome ogni volta essendo raviolini e vi faccio un attimo un contesto siamo qua con un grandissimo attore doppiatore che è Luca Biagini stiamo insomma rispondendo alle domande della chat e adesso stavamo parlando in particolar modo dell'esperienza in Dottor House sulla quale Luca io ti devo dire io sono un amante incredibile di Dottor House penso che sia la serie una delle tra le mie quattro serie preferite in assoluto mi ha tenuto incollato allo schermo amavo gli ulori ho amato il modo in cui ha interpretato House e mi piaceva molto seguire anche le vicende personali oltre ai casi non l'ho trovata mai banale l'ho trovata sempre una serie molto innovativa rispetto all'IR che poteva essere ma sai hai perfettamente ragione e aggiungo anche che secondo me era una serie scritta con un grandissima intelligenza cioè c'era dietro una scrittura un'intelligenza notevolissima perché trattava degli argomenti molto particolari sia nel campo professionale del medico ma anche come dici tu giustamente nel campo invece privato personale e quindi molto poco molto poco politicamente corretta anzi molto scorretta politicamente e questa faceva gli dava secondo me una una bella carica di innovativa non era mai banale mai banale e la scrittura era sempre molto alta molto intelligente bravi veramente gli sceneggiatori molto bravi no 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 concordo in pieno e devo dire quando ho sentito per la prima volta la prima puntata della settima stagione e avevo molto paura avevo molto paura di questa cosa l'ho sentita e lì per lì ovviamente si sente la differenza perché è anche giusto come hai detto teno di accollarsi all'attore e non alla voce precedente però lì per lì ho detto dopo due o tre puntate non ho è come se non avessi più sentito la differenza cioè come se mi fossi abituato e avessi dato poi una sorta di continuità alla cosa perché effettivamente come hai detto te dopo due o tre puntate io non ho più fatto caso ma sì perché allora voglio dire ribaltando la situazione se l'avessi doppiata io sin dall'inizio e fosse successa questa cosa che per cui a un certo punto doveva esserci un'altra voce e sceglievano Sergio Di Stefano al posto mio avresti avuto lo stesso problema sicuramente per le prime puntate perché è così perché è normale tu ti affezioni e la leghi a quella faccia non c'è niente da fare e quindi ti stona le prime volte che tu senti una voce nuova su un attore che sei abituato a sentire con una voce e tu la senti estonata non ti sembra ti dà fastidio quasi fastidio e molti hanno avuto fastidio e cacchio andata via ti sentiamo ma ti vediamo nero che ho fatto ho toccato qualcosa può essere che abbia disattivato la webcam Andrea però penso ci dobbiamo perché perché ho tolto un messaggino che stava arrivando ah ok ecco ti rivediamo ok ok sono tornato sono tornato eccoci eccoci grazie a Barbara perché io sono rimasto oscurato e quindi sì siccome dici te sarebbe accaduta la stessa identica cosa se fosse stato sì purtroppo inevitabile questo quindi mi sono preso all'inizio una una fraccata di di bordate di critiche e poi per fortuna poi dopo un pochino insomma si sono attenuate e poi dopo si è ribaltata la situazione no ribaltata nel senso mi hanno accettato ecco quindi va bene sì ma l'avevamo messo in conto è questa cosa quindi assolutamente l'avevamo messo in conto mamma mia chat il finale di dottor house cosa ha provato nel doppiare quel finale così commuovente è stato un finale veramente molto molto commuovente molto bello però ma penso che anche il glory sai avesse avesse messo del suo in questa cosa perché anche per lui era una serie fondamentale della sua vita artistica tant'è vero che poi lo vedi poco in giro cioè nel senso che non viene utilizzato tantissimo come attore anche nel cinema si ha delle partecipazioni dei piccoli ruoli anche dei ruoli un po' più grandi ma insomma devo dire che in fondo la sua faccia il suo volto la sua voce è legata a quel personaggio e purtroppo quando fai personaggi così importanti che lasciano un segno così forte è difficile poi ritrovare un'identità personale capisci quindi lui aveva deciso di stoppare perché si era stancato perché comunque sia basta a un certo punto basta poi voleva divertirsi con la musica voleva lui canta un gruppo insomma voleva fare altre cose tanto ha guadagnato tanti di quei soldi perché ogni serie lui prendeva delle cifre spaventose quindi ha fatto giustamente adesso basta perché sennò poi veramente non puoi fare nient'altro che quello a un certo punto diventi solo quello e adesso forse si divertirà io penso che si divertirà a fare tante altre cose ogni tanto fa qualcosa in cinema lo vedo lo doppio però mi sembra che non gli importi poi più di tanto ecco di di avere una carriera non lo so questo me lo immagino io fa altre cose penso che si diverta molto sicuramente ok allora ragazzi dato che noi non vogliamo approfittare della disponibilità di Luca e della gentilezza e soprattutto non vogliamo sequestrare i nostri ospiti io farei scegliere le ultime due domande dalla chat facciamo la nostra conclusiva e andiamo in chiusura se per voi va bene va benissimo allora la prima domanda è scelgo dalla chat come è stato doppiare il discorso del re è stato difficile fingere le abbalbuzie sì è stato complicato perché non era in realtà proprio una balbuzie ma era più una una specie di erano degli attacchi di panico e quindi lui rimaneva un po' in apnea come se rimanesse col fiato sospeso e quindi dovevi assolutamente per fare bene quel lavoro quel doppiaggio dovevi sempre va fatto in ogni doppiaggio ma in quel caso lì proprio era fondamentale e irrinunciabile dovevi respirare imparare a respirare come respirava lui era l'unica possibilità di riuscire a fare quel lavoro lì e quindi non fare il balbuziente che sarebbe stata la soluzione più banale e anche più scontata ma meno verosimile e meno fedele all'originale ma fare quel lavoro che aveva fatto con il Ferpi insieme al regista immagino di di avere questa difficoltà proprio di più che di esprimere attacchi di panico era una difficoltà respiratoria tant'è vero che andava quasi in apnea non respirava e questo l'abbiamo dovuto seguire con direttore eccezionale come Francesco Vairano l'abbiamo dovuto seguire proprio passo passo ci siamo stati molto a lungo per beccare tutte le scomature possibili immaginabili quindi è stato un grandissimo lavoro che però mi ha dato grandi soddisfazioni mi ha ripagato ho avuto sempre grandi complimenti grandi consensi naturalmente questo anche perché fai parte oltre che recitare e doppiare un grande attore fai parte di un grande film quindi questo è importante quando sei dentro un contenitore di eccellenza il tuo lavoro viene valorizzato se lo stesso lavoro lo fai in un film medio mediocre o di bassa qualità magari fa la stessa fatica fa lo stesso lavoro ma il risultato non è lo stesso perché il contesto è molto importante dove sei collocato però è interessante quello la valutazione no? che hai fatto per esempio su appunto il discorso del re perché si vede proprio cioè a livello interpretativo credo che sia stato fatto un lavoro immenso perché appunto lui stesso in originale non fa il balbuziente che sarebbe stato anche per lui a livello di impresa d'attore sarebbe stato molto più facile per lui fare il balbuziente e invece si vede proprio quella reazione che anche non ascoltando il film anche semplicemente guardando la sua memica facciale anche semplicemente guardando il suo movimento del corpo ti dà quella sensazione cioè la sensazione del nodo alla gola che non ti fa parlare ma allo stesso tempo ti spinge nel diaframma e quindi è come se non uscisse proprio la voce cioè ti trasmette le emozioni che lui trova hai ragione in pieno tra l'altro ti dà un senso di ansia che il balbuziente non ti dà il balbuziente a volte ti fa sorridere semmai invece lì non avevi nulla non ti faceva sorridere per niente ti metteva in uno stato ansioso anzi perché effettivamente non era un balbuzio era una roba era un attacco di panico quindi tu partecipavi a questa a questa difficoltà a questa angoscia che lo 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 prendeva proprio lo attanagliava e quindi ti faceva star male effettivamente che poi è stato premiato veritatamente con l'Oscar come no capolavoro assolutamente sì ultima domanda dalla chat volevo chiedere a Luca se per caso ha qualche ricordo del doppiaggio del film The Founder che racconta la storia della nascita di McDonald in cui doppia Michael Keaton eh sì sì molto mi ricordo molto bene perché non è lontanissimo nel tempo non è più neanche recentissimo però insomma non so quanti anni ha sarà 4 o 5 anni o più o meno e e poi l'ho doppiato con un direttore figlio d'arte una persona che io adoro una persona carinissima che è Alessio Bianchi figlio di Rodolfo Bianchi ed era una delle prime dei primi cose importanti che faceva un film importante e l'ha fatto molto bene quindi io l'ho conosciuto in quell'occasione in quel film e siamo diventati molto amici ci vogliamo molto bene lui mi ritiene un secondo padre in qualche maniera perché Rodolfo è un eccellente eccellente direttore di doppiaggio ha fatto grandissimi film però ha una caratterialità me l'ha detto me l'ha detto il figlio io ho un rapporto ottimo con tutti e due con Rodolfo ma Rodolfo è una persona molto riservata e anche con il figlio ha un rapporto di grande amore ma anche un po' distaccato cioè lo lascia stare per la sua strada lo fa andare con le sue gambe quindi Alessio invece è più è più caldo Rodolfo è distaccato adesso è più caldo e quindi mi ha adottato come padre putativo insomma no quindi no ma il film mi sono divertito anche molto a farlo devo dire la verità poi era una storia così particolare insomma questo questo veramente questa operazione truffaldina ma comunque intelligente cioè nel senso che in realtà la McDonald di adesso e McDonald di adesso grazie a questo quel sonaggio a lui gli altri due fratelli erano tenevissimi bravissimi ma sarebbero rimasti lì dove erano insomma certamente è stato molto disonesto nei confronti di questi fratelli però ci sta che dobbiamo fare ha fatto i suoi interessi e ha fatto diventare la McDonald una multinazionale e quindi e poi in realtà lui ha sfruttato l'occasione no? quando si dice l'occasione giusta perché nel film viene fatto vedere cioè la battuta che la moglie gli fa a tavola è che ah un'altra scommessa cioè stai investendo in un'altra cosa che non andrà a buon fine come tutte le altre cose e invece poi alla fine e beh vedi poi dai e dai dai e dai si vede che alla fine aveva trovato la strada giusta quindi veniva da una serie di sconfitti probabilmente quindi si si capito si si è stato anche lì è stato molto bravo Michael Keaton molto bravo bene allora chiudiamo le domande dalla chat allora per andare in chiusura l'ultima domanda nostra è questa abbiamo parlato comunque di tante cose belle inerenti il mestiere dell'attore della recitazione il doppiaggio ti chiederei invece se c'è uno o più aspetti magari che non ti piacciono e vorresti che fossero diversi qualsiasi tipo in questo caso nel doppiaggio o in genere in generale nella recitazione ma se vuoi anche nello specifico nel mondo del doppiaggio ecco ma guarda nel mondo del doppiaggio è molto semplice purtroppo sono cambiati i tempi adesso ci fanno ci fanno lavorare con una velocità spaventosa ci fanno lavorare con dei ritmi incredibili e soprattutto arrivano i materiali oggi domani devi andare in doppiaggio e dopo domani devo andare in onda adesso sto esagerando ma insomma è un po' così e questo naturalmente da un io per fortuna non sono più cioè un sono una persona neanche più di mezza età quindi il problema riguarderà molto i giovani e riguarda le persone che sono a metà della strada della loro carriera perché questi ritmi possono far male proprio far male fisicamente perché c'è gente che non si risparmia lavora 9, 9, 10, 11 ore terzi, quarti turni cioè io oggi ho parlato con con Zanandrea e mi diceva che lui sta lavorando da da un mese a quattro turni al giorno quattro turni al giorno significa sono nove dodici ore al giorno dove tu devi stare in sala e lui come direttore in questo caso ma a volte anche un lattore e tu devi starci sempre con la testa con il cuore con la voce con il corpo arrivi sei stremato arrivi a casa io quando ho fatto qualche volta anni fa adesso non lo faccio più perché io lavoro due turni al giorno massimo e tre non le voglio fare e quindi mi risparmi una mattina la dedico a me stesso alle mie cose a tante altre cose ma non al lavoro perché altrimenti ti può uccidere ed è successo anche recentemente insomma casi drammatici da questo punto di vista quindi questo è un aspetto che non siamo in grado come categoria di affrontare con durezza con con la voglia di dire basta adesso adesso dobbiamo cambiare tornare a ritmi più umani ma ormai secondo me la macchina è talmente avviata in una certa direzione e tutti si adeguano a questa situazione perché nessuno vuol pestare i piedi agli altri ci sono interessi fortissimi economici insomma cose che non non fanno parte dell'arte di nessun tipo insomma quindi sono cose purtroppo solo commerciali ed economiche e sono cose che non vi dovrebbero voi non dovreste neanche saperle perché sono cose che fanno un po' male nel senso un appassionato deve vedere la cosa bella e gli racconti un retroscena dove tutto questo invece ha un risvolto anche drammatico non è bellissimo non è bellissimo io cerco di difendermi perché ci tengo alla mia vita e anche a fare altre cose non solo non solo il viaggio ripeto mi occupo di altre cose chi purtroppo fa solo il doppiaggio e lo fa a volte con un eccesso di stacanovismo secondo me secondo me perde perde molto perde molto della sua vita e questo è un è un guaio ma non dipende purtroppo dipende dalle circostanze ormai da un vottice economico terribile quindi siamo dentro una macchina infernale ma un po' tutti quanti voi nel vostro piccolo vi siete ritagliati una fetta di felicità in qualche maniera no? perché state coltivando la vostra passione avete creato questa realtà molto bella quindi godetevela godetevela viveteva bene fatevene tesoro divertitevi cercate di coinvolgere le persone come avete fatto con me con altri con altri colleghi e vi auguro di avere una vita bellissima davanti a voi e di divertirti sempre con le cose che vi piacciono grazie grazie mille Luca che bello che bello speriamo 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 veramente che anche se la macchina è bella avviata si riesca comunque a capire che la propria vita il proprio benessere è importante e che anche secondo me lavorando con tempi così stretti ovviamente anche un po' di qualità la vai a perdere a voglia se la perdi la qualità la perdi come perché purtroppo senti un po' una una omogeneità una piattezza a volte in certi prodotti che danno fastidio effettivamente e credo che appassionati come voi poi se ne rendano conto non credo che i passi così sarete sensibili da questo punto di vista visto che amate questo mondo lo seguite con molta attenzione quindi vi renderete conto quando le cose sono fatte bene e quando non sono fatte bene e questo però è un peccato capisci perché è una cosa veramente indegna indegna di un mestiere così così bello al fondo ragazzi miei coraggio parliamo di cose belle venite a venire al teatro assolutamente vi voglio abbracciare vi voglio vedere in faccia vi voglio cercare e voglio e voglio condividere con voi una pizza una birra una bistecca quello che volete volentieri volentieri allora noi abbiamo fatto questa ci siamo messi questo tempo limite 20 giorni ci organizziamo anche con tutti adesso la mettiamo in moto la macchina attenzione a dire a Lucio ti voglio toccare perché Lucio poi prende tutto alla lettera Luciano Luciano è il toccatore no scherzo mi riso comunque comunque a parte gli scherzi non vediamo l'ora noi però è stata una bellissima live speriamo che ti sia trovato bene Luca che hai passato due ore piacevoli benissimo ragazzi siete troppo in gamba troppo simpatici va bene grazie per noi è stato veramente un onore poterti avere qui e ovviamente ringrazio tutti voi che avete seguito la live che siete stati qua fino all'ultimo che avete fatto tante domande i mod per moderare bene la chat ma il grazie più grande stasera va come ho detto a Luca per la sua disponibilità gentilezza quindi andiamo ci organizziamo e noi ci vediamo domani invece per una nuova live di Let's Play giocheremo e anzi ci ammazzeremo a Gartic Phone quindi buona serata a tutti ci vediamo domani grazie ancora Luca grazie un saluto un saluto a tutti quanti buonanotte a tutti quelli che hanno seguito che hanno ascoltato che mi hanno sopportato e vi voglio bene e che verranno con noi a vedere lo spettacolo e che verranno con noi vero ragazzi se no veramente poi dopo non si parla più con voi altrimenti ci arrabbiamo come diceva un vecchio slogan esattamente buonanotte ragazzi a domani ciao 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 ciao